Giovanni XXIII seguiva in diretta audiovisiva i lavori del Concilio Vaticano II che si svolgevano nella Basilica di San Pietro. Lo faceva dal suo appartamento grazie ad un moderno impianto di videosorveglianza realizzato dalla Radio Vaticana in collaborazione con la Philips che permetteva di manovrare due telecamere installate nell'aula conciliare, una possibilità che il Papa Bergamasco ha accolto e utilizzato con meraviglia e stupore. Certamente li seguiva e voleva vedere cosa facevano i tecnici della Radio Vaticana in accordo con la Philips e hanno fatto questo grande impianto che ogni vescovo, non so quanto distanziati, poi ve lo dirà lui il tecnico, perché se andessero giù a parlare dove c'era il microfono e dall'appartamento privato del Papa, dallo studio, lui aveva quel televisore che avete qua mi pare, che si poteva seguire con le telecamere, due telecamere c'erano in San Pietro e noi si poteva seguire chi parlava e poi zoomare e portarlo, portarlo, che si potesse vedere chi era e lui era molto curioso e seguiva, tutti i giorni seguiva il concilio, poi qualche giorno non poteva farlo perché c'aveva le udienze e allora durante le udienze stava giù, al secondo piano non poteva far niente, ma le cose tecniche fatevi spiegare dall'ingegnere che ha lavorato molto per questo. Solo una cosa, qual era diciamo l'umore del Papa, cosa diceva di questo impianto che era stato fatto? Diceva che era una cosa straordinaria, non aveva mai potuto vedere una cosa del genere, poter seguire vescovo per vescovo che andavano giù a parlare dove c'era il microfono che l'ingegnere ha sistemato. E lei cosa faceva? Zoomavo, o giravo la telecamera perché c'erano due telecamere che dall'appartamento potevi girarle, voltarle e prendere anche quelli che stavano lontano, zoomandoli, no? E le telecamere erano nascoste, erano lì messe? Ah, ci vedevano bene. Ci vedevano bene. Senta, ingegnere, allora di che cosa stiamo parlando? Stiamo parlando di Giovanni XXIII, che nel 61 volle andare a San Paolo per annunciare che voleva far fare questo concilio Vaticano II. A chi? A 2500 vescovi. Dove stavano questi vescovi? Sparsi per il mondo. Però la cosa importante era avere a Roma tutti i vescovi possibili, sentire la loro opinione. Questo è il motivo anche per cui aveva bisogno di vederli con le telecamere. E quando furono messe le telecamere, i telecomandi furono messi sopra, cioè in maniera tale che loro dall'appartamento potevano zoomare la camera e così via. Non erano tante camere, erano un paio, ma è più che sufficiente. Due. Tenete presente che l'ingegner Vacchini, Francesco Vacchini, responsabile della fabbrica di San Pietro, fece la progettazione di quest'aula. L'aula stava dentro 100 metri lunga, la navata, e 22 metri circa, 23, la larghezza della navata. Furono fatte due gradonate, non gradinate, gradonate, perché così i vescovi potevano stare in salita e vedere davanti tutto. Ed era, diciamo, per loro stessi una cosa piacevole il vedere gli altri vescovi che magari andavano a parlare. Tenete presente che per poter leggere un documento vicino al microfono, come anche il microfono era presente, era stato messo un lumetto, perché se uno aveva una carta da leggere, poteva leggerla e parlare. Questa cosa comportò all'ingegner Vacchini, Francesco, che alla fine di tutta la storia ci volevano circa 2 megawatt di energia elettrica per fare un'illuminazione diffusa. Allora, diciamo sempre con il fine del risparmio, si era messo il lumetto vicino al microfono, tale che uno scendeva dalla sua gradinata, faceva i suoi massimo 20 metri, è scritto questo, di distanza, a piedi, scendendo coi gradini, attenzione, e sotto ogni gradino c'era una lampadinetta piccola, perché bisognava segnalare che c'era il gradino. Non tutti erano giovani quei vescovi, qualcuno era anziano, forse più o meno come noi. Ma la cosa più interessante è che forse le battute più terribili, o più vive, venivano da più anziani. Perché più anziani? Perché ricordavano più cose, erano più interessati alla loro presenza anche nel Concilio, nei documenti. Tenete presente che il Papa aveva detto, Giovanni XXIII, il Concilio si deve fare in latino. E questo per noi onestamente, non pensare a traduzioni simultane, non pensare a cabine di traduzione, per la prima sessione andò bene, perché pensavamo soltanto ai microfoni da mettere, agli amplificatori, a far sentire bene ciò che era detto. Perché il latino era capibile, capibile da tutti. Però attenzione, i nordamericani non molto. Infatti, alla seconda sessione, i nordamericani fecero pressione per avere la traduzione simultanea. Di che cosa? Il latino, sempre, il testo, veniva letto dal vescovo che aveva scritto, e dei traduttori, ce n'erano sei, con le gabinone messe, questo per la seconda sessione, su richiesta esplicita degli americani, non dico altro, perché non riuscivano a capire il loro, il latino. Allora, in quell'occasione, questo è l'altro aspetto della cosa, certamente non potevamo fare una distribuzione via filo, delle traduzioni simultanee, perché si scendeva a parlare il microfono, c'erano gli altoparlanti che davano un canale, cioè il latino. Allora, la Philips fece una cosa, a seconda sessione, costruì un ricevitore tascabile che dava la possibilità di avere sei canali d'ascolto, ricevitore tascabile. Quella fu una buona idea, perché altrimenti, come facevi a far ascoltare le traduzioni simultanee, alle orecchie, 2.500 moltiplicati a 5.000 orecchie, non ce ne uscì. Quindi, diciamo, quel noleggio di 2.500 ricevitori con sei canali selezionabili risolse il problema, per cui non fu necessario aggiungere caverie, se no forse ancora stavamo lì a fare caverie, a battere i cavi. Però questa operazione fu di gran sollievo per chi? Soprattutto per gli nordamericani. E invece questo impianto di videosorveglianza, insomma, come è nato? Noi, come Radio Vaticana, dipendevamo dall'ingegnere Vacchini, Francesco, cioè responsabile della fabbrica di San Pietro, e naturalmente fu chiesto a lui di avere la possibilità di dare al Papa le informazioni video, oltre quelle audio, quelle audio che le mandavamo già, eccetera, però anche quelle video. Quindi, con le telecamere messe in San Pietro, brandeggiabili, con la possibilità che dall'appartamento, con i cavi, ci fossero anche i telecomandi, tutte queste cose... Perché il Papa Giovanni voleva lasciare liberi i Vescovi, non sempre la sua presenza in aula di San Pietro. Dunque lui si ritirava e rimaneva in casa, e dall'appartamento privato poteva seguire, per lasciare libertà ai Vescovi. Figuratevi che quando lui ha annunciato a San Paolo il concilio, ha voluto sapere da me, ma tu dove stavi? Stavo sotto i cardinali, e quando lei ha annunciato il concilio, ci sono stati dei cardinali che hanno detto, boh, e che cos'è sto a fare del concilio? Non sapevano neanche che cosa era, cosa voleva dire un concilio. E allora si è fatto delle risate, purtroppo la Chiesa e anche questa, e avanti insomma. E quindi questo sistema consentiva al Papa, quindi di essere lì senza esserci. Certo. Tenete presente che ciò che registrava la Radio Vaticana, l'ho scritto comunque, tutto è solo segnale audio. Il segnale video era un discorso diverso, a servizio del Papa, quindi il telecomando, ce l'avevano su all'appartamento, e questa cosa, diciamo, diede la possibilità, come ha detto lui, che il Papa non fosse presente sotto. Li lasciava liberi, 2.500 persone, 2.500 teste, vescovi, arcivescovi e cardinali. Qualche cardinale anche c'era ogni tanto. Eh, tutti. Tutti quanti. Tutti. No, io non me li ricordo. Forse qualcuno non... Vabbè, comunque, quelli che c'erano, c'erano. Una cosa importante. C'era anche un vostro, un vostro, ha detto, della Radio Vaticana, un friulano, me lo ricordo che... Questo adesso, io non mi ricordo il nome del friulano. Non me lo ricordo il nome, ma era famoso, una specie di usciere, che lui ogni volta che passava coi microfoni per portare a destra, a sinistra, Sambuco. Faceva Sambuco. Sambuco. E faceva finta di inciampare. Addirittura, un vescovo, una volta, è sceso e è andato a vedere San Pietro. Dove si è inciampato questo? Faceva morire da ridere tutti, no? Per dire, c'era anche il lato umoristico. Ironico. Ironico, sì. Diciamo che questa ironia velata, c'è sempre stata, su una cosa che non ho scritto, gli assignatores lo corum. Chi sono? Erano delle persone che accompagnavano ogni vescovo al suo posto. Al suo posto, sì. Ogni vescovo aveva la sua targhetta. Erano seminaristi, erano a prezzi giovani. Esatto. E tenete presente che questi assignatores lo corum erano alcuni, magari anche giovani sacerdoti, come stava dicendo lui. Però altri erano persone tipo Sambuco. Sambuco non era sacerdote. Però, vedete, l'animo, diciamo, un po' frizzante della persona. in questa grande aria pesante poteva essere, ma non lo è stata. 2500 persone riunite assieme avrebbero fatto tanta caciara, come si dice a Roma. Non lo fecero. Obbedirono tutti a un comando. Bisogna fare un concilio. Perché questo concilio? Se qualche sacerdote ci fosse, qui forse lo potrebbe anche spiegare. Il Papa lo spiegò già nel primo discorso fatto a San Paolo. Lo spiegò a tutti, vescovi o cardinali che fossero. In quell'epoca queste cose che voi vedete qua dentro funzionavano. Io ho detto epoca, non ho detto in quell'anno, perché tra oggi è l'epoca del concilio. Sono passati un po' e vari decenni. E queste cose, queste apparecchiature, come quelle di Santa Maria di Galeria, hanno servito lo scopo principale che era quello di diffondere nel mondo ciò che dicevano i vescovi. Guardate, non tanto ciò che diceva il Papa, sì, era importante quello che diceva il Papa, ma quello che dicevano i vescovi. E soprattutto per le nazioni nordamericane, perché i nordamericani erano curiosi di sapere chi ha detto questa cosa e chi ha detto quest'altra. E il Papa che cosa diceva rispetto a quello che sentiva, apostrofava? Diceva che i nordamericani avevano i dollari. Questa è la cosa. Io questa non la sapevo, lasciamola a lui, perché lui prende un po' il discorso del Papa, perché tra loro poi... ma il Papa era soddisfattissimo di questa organizzazione e non credeva che potessero arrivare a tanto di poter seguire da casa i vescovi e sentire quello che dicevano, perché lui il latino lo spizzicava molto bene. E delle volte magari commentava quello che... Certo che commentava e voleva sapere, aveva già i punti fissi per esempio di Ottaviani, io sapevo già dove puntare la telecamera perché Ottaviani era un po' così così, non tanto in favorevole al concilio e molti cardinali, specialmente Sidi per esempio, anche Sidi ha detto ha detto ha detto questo ci vorrà 500 anni per riparare i guai del concilio e dopo io ero dopo di aver fatto l'aiutante di camera del Papa ho fatto il decano dell'anticamera pontificia e con Paolo VI dopo 2-3 anni che era Paolo VI accompagno il cardinal Sidi dal Papa nell'attesa mi dice Gusso tu avrai sentito qualche cosa nei miei riguardi e forse sono stato un po' forte però ti dico che io entro nella casa di tutti i genovesi nel nome di Papa Giovanni ho le porte sempre aperte e questo è stato una bella cosa che mi ha fatto molto molto piacere ma i cardinali erano preoccupati anche della spesa che il concilio erano molto preoccupati però ci sono state delle persone che hanno offerto tutto praticamente il Vaticano non ha speso una lira perché è stato pagato da altre persone e questo è il caso anche della Philips allora attenzione nel caso della Philips fu fatta due cose cioè gli ingegneri caravani e giudici di notte prepararono i preamplificatori la Philips li copiò pari pari i preamplificatori microfonici e poi ne fece 34 microfoni 34 amplificatori microfonici più altre cose per la parte Philips si pagò la traduzione simultanea cioè alla seconda sessione quando la Philips dovette impegnarsi con 2500 con 2500 ricevitori portatili che sia lì fu pagato il noleggio di quei ricevitori quanto è stato complicato disegnare cioè progettare questo impianto di videosorveglianza mi scusi se insisto su questo aspetto guardate la videosorveglianza con due telecamere telecomandate da sopra non era tanto impegnativa cerebralmente quanto fisicamente dove mettere le telecamere due e dove passare i cavi poi arrivare su arrivare su all'appartamento ci pensarono gli elettricisti del Vaticano perché loro conoscevano le tubazioni dove stanno e così via e per noi non fu per niente complicato cioè accettammo tranquillamente come Radio Vaticana all'epoca non si occupava del video per il video è venuto fuori il ctv ma molti decenni dopo sul serio questa telecamere sempre della Philips furono installate Sambuco ci stava in mezzo a questa installazione si divertiva anche con il posizionamento delle telecamere e quando venivano a lavorare nell'appartamento cioè ci hanno messo molto hanno faticato tanto oh no hanno fatto molto presto ma nell'appartamento prima del concilio nella preparazione storie c'era qualche giornalista famosa del borghese che sapeva tutto prima cioè le parole che diceva il papa venivano già sapute allora abbiamo chiamato dei tecnici che andassero a cercare dove andavano i figli dal segretario dall'appartamento privato al segretario di stato alla segreteria di stato al sostituto dell'acqua al cardinale Tardini prima e poi è venuto il cardinale Cicognani che era stato segretario del papa per vedere come sfuggivano queste queste cose non segrete ma insomma riserva e hanno fatto delle ricerche e poi hanno rinunciato hanno detto è impossibile perché i fili della luce e del telefono passano dappertutto segreteria di stato tutto il palazzo pertanto è stato impossibile che hanno rinunciato e hanno detto il papa se deve parlare lo parli a tu per tu e non senta ma che rapporto aveva il papa in genere con l'apparecchio televisivo con la tv era una cosa no si guardava lui si guardava il telegiornale tutte le sede alle 8 dopo cena cioè cenando guardava il telegiornale Capovilla era di fronte qualche sera se c'era la televisione non mi ricordo di un genovese famoso che faceva delle commedie un genovese ce le piaceva molto e lo seguiva oppure se c'erano delle commedie venete non mi ricordo i nomi degli attori ma le seguiva e piaceva e lei era lì a cambiare canale bisognava cambiare il canale a mano e a guardare questo questo impianto diciamo questa questo sforzo vostro della radio vaticana come veniva raccontato anche dai giornali all'epoca insomma avete ricevuto anche delle attenzioni allora separiamo le cose la radio vaticana si occupava dell'audio quindi chiaramente fummo coinvolti per la ricerca di eventuali radiomicrofoni e fummo coinvolti quindi dovremmo lavorare a cercare questi radiomicrofoni con dei ricevitori appositi eccetera e non fu trovato niente e come ha detto lui prima però un pensiero c'è sempre stato allora il suggerimento dato al Papa se deve dire qualcosa la dica a quattro occhi molto meglio che non parlarne un po' è perché i giornali parlavano sempre delle cose che diceva per telefono chiamava il segretario di stato e gli diceva guardi che bisognerebbe fare così 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 la stampa lo pubblicava il borghese poi c'era una famosa direttrice del borghese che era festente sempre sempre in mezzo era un borghese sempre in mezzo il giornale comunque gli americani furono molto soddisfatti del servizio dei servizi fatti sia del latino mal compreso della prima sessione sia delle traduzioni fatte diciamo e ascoltate con i ricevitoretti Philips che la Philips ha noleggiato al Vaticano e l'altro servizio che si fece allora si registrò tutto la registrazione è stata fatta tutta ogni parola che veniva detta chiunque sia che dicesse qualcosa in aula parliamo dell'aula l'aula fu progettata dall'ingegnero i pacchini perché utilizzò i pontetti è stato bravo è stato bravissimo guarda se ne prese tutta la responsabilità e noi obbedivamo a pacchini tranquillamente io sono ingegnere lui pure era ingegnere tutte e due conoscevamo ma lui molto meglio di me la fabbrica di San Pietro guardando oggi quel periodo del concilio come lo guarda lei come lo ricorda insomma qual è il valore oggi visto come vanno le cose è stata una cosa grandiosa all'epoca è una cosa che ha fatto scalpore e difatti la maggioranza dei cardinali non volevano perché è una spesa troppo grossa e poi si è concluso che la spesa è stata pagata da personaggi che non sto qua a nominare ma il Vaticano mi ha speso una lira e dopo molti anni è stato importante che tutti i vescovi potevano parlare e dire la sua perché per esempio dopo con Paolo VI è venuto fuori la messa in italiano in tedesco in francese e inglese ma all'epoca tutti dovevano parlare latino che nessuno ne capiva un tubo pertanto a distanza di anni è stata una cosa grandiosa oggi ci vorrebbe ce ne vorrebbe un altro sì cioè il mio sì è fero non lo so non lo so adesso lui io diciamo direi di sì ma per un motivo sono passati 60 anni e tutte queste cose sono diventate vecchie come me però ce ne sono tante altre se si trovassero 2500 vescovi pronti per dire la loro su questa problematica che oggi esiste perché ci stiamo vivendo in merito forse non sarebbe male però io non voglio dare suggerimenti a nessuno tecnicamente però non dovreste fare granché forse vero? no ma dico adesso in videoconferenza i vescovi non serve che vengono qua sì perché ognuno da casa sua può parlare a livello ingegneristico ci sarebbe poco da fare posso dire la mia non lo so non voglio mettere le mani avanti ci sarà qualcun altro che avrà queste idee di questo tipo però l'assemblea di 2500 persone non si può fare perché per farle venire qua quanti soldi ci vorrebbero poi specialmente con le crisi energetiche odierne queste sono tutte cose che sarebbero forse da un po' discutere che è un po' discutere